Sono contento perché una partita del genere, portarla a casa qui a Foggia vale doppio, ma non per il mio passato, perché sportivamente e calcisticamente venire qui a Foggia e vincere le partite così vuol dire che è un segno di grandissima maturità, unità di intenti e credo che la strada sia giusta, le ultime tre prestazioni, le mie tre prestazioni da quando sono subentrato sono su questa linea, su quest'onda qua e bisogna proseguire, questo risultato ci deve dare forza, consapevolezza e andare veramente avanti, perché c'è un girone di ritorno aperto, la Serie B ci insegna che per due o tre risultati utili, eravamo distanti e adesso vediamo i risultati di questo weekend, vincendo due partite consecutive ti ritrovi ad avere una bella boccata d'ossigeno e a fare il campionato che probabilmente, sicuramente alla vigilia di questo campionato eravamo partiti con obiettivi diversi, eravamo in linea finché c'ero io, poi quando sono tornato ho trovato la squadra in zona di retrocessione, in questo momento la mia soddisfazione è ritrovare la squadra che ha una gran voglia di essere allenata da me. Ciao! 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 Ciao!